Al via Gaza le vaccinazioni dei bambini contro la poliomielite, 22 morti a Jenin nelle operazioni militari israeliane, agghiacciante video diffuso dai familiari degli ostaggi che contestano Netanyahu, mentre la coltellavo mi chiedeva perché, confessione shock dell'uomo fermato per aver ucciso Sharon Verzeni, l'ho colpita detto mentre guardava le stelle, strade insanguinate nel controesodo una giovane mamma ha perso la vita in provincia di Latina, grave il figlio, arrestato il compagno alla guida, positivo ad alcol e droga. A Venezia arriva il primo film italiano in concorso Campo di battaglia di Gianni Amelio, un'opera contro l'assuefazione alla guerra, lo definisce il regista. Un cordiale saluto dal TG2000, buonasera. In primo piano allora il Medio Oriente, continua in Cis Giordania quella che l'esercito israeliano definisce operazione antiterrorismo. A Jenin in un teatro di scontri tra uomini armati e truppe di Tel Aviv, intanto a Gaza sono iniziate le vaccinazioni antipolio. Sentiamo Clara Iatosti. È iniziata la campagna di vaccinazione antipolio nell'ospedale Nasser di Gaza, dalla città di Kanyunis, la prima buona notizia dopo mesi. Lo scopo di Caritas Gerusalemme e delle altre agenzie dell'ONU è immunizzare 640.000 bambini nella striscia. Almeno il 90% dei piccoli deve essere vaccinato due volte, con quattro settimane di intervallo tra le dosi, perché la campagna abbia successo. Ma la sfida è epocale a Gaza, in gran parte distrutta da quasi 11 mesi di guerra e dove di recente è stato registrato un caso di paralisi da polio dopo 25 anni. Le parti in conflitto si sono accordate su pause giornaliere di otto ore nei combattimenti in aree specifiche dell'enclava assediata. Ma intanto continua la cosiddetta operazione antiterrorismo in Cisgiordania. Già nella notte l'ingresso dei soldati di Tel Aviv, l'agenzia di stampa palestinese UAFA, riferisce di operazioni militari a Gaza City e Rafa e di pesanti scontri tra uomini armati e truppe israeliane a Jenin, con 22 vittime. Per ora Tel Aviv non commenta, mentre i familiari degli ostaggi proseguono la loro protesta contro il governo Netanyahu. Oggi hanno tentato di entrare a Gaza al grido di o li riportate a casa o lo faremo noi e pubblicato un video censurato dalle autorità in cui si afferma che le donne sequestrate sono state violentate ed alcune sono rimaste incinte durante la prigionia. Il conflitto in Ucraina è di almeno 7 morti e 97 feriti. Il bilancio dell'attacco russo sulla città di Kharkiv. Intanto il segretario generale della Nato Stoltenberg dice Kiev ha diritto all'offensiva a Kursk. Sentiamo Erika Calvani. Ancora bombe sia in Ucraina che in Russia. Oggi un nuovo attacco russo a Kharkiv ha ucciso due persone e otto sono rimaste ferite. Altre vittime che si aggiungono ai 7 morti, tra cui una 14enne e 97 feriti causati dal bombardamento di ieri in una zona residenziale di Kharkiv. Nella notte Kiev ha registrato un altro allarme aereo e questa mattina un attacco russo a Chasiviar nella regione del Donetsk ha causato la morte di 5 persone. Come denuncia il capo dell'amministrazione militare della regione, l'attacco ha colpito un'abitazione privata e un grattacielo e le vittime sono tutti uomini di età compresa tra i 24 e i 38 anni. Inoltre le forze armate russe hanno rivendicato di aver preso il controllo di Pivnichne, sempre nel Donetsk. Lo ha reso noto il ministero della difesa di Mosca affermando di aver completato l'operazione di bonifica. L'altro fronte della guerra vede procedere l'avanzata militare ucraina e Russia. Sono almeno 5 le persone uccise e altre 37 sono rimaste ferite nella regione russa di Belgorod a causa dell'ultimo attacco ucraino, lo conferma il governatore dell'Oblas, che accusa Kiev dell'utilizzo di bombe a grappolo. Mosca chiede all'ONU di condannare inequivocabilmente l'attacco. Il patriarca russo Kirill lo definisce un crimine terroristico diretto contro persone innocenti, mirato a intimidire il popolo e portare confusione nella società. Il segretario generale dell'ONU Stoltenberg invece dichiara di appoggiare l'offensiva ucraina nella regione di Kursk, in Russia. L'Ucraina aveva il pieno diritto di lanciare la sua offensiva sorpresa come atto di autodifesa, dice in un'intervista al quotidiano tedesco di Welt. L'Ucraina divide la maggioranza ma anche l'opposizione. Dopo il giallo del comunicato del vertice di centrodestra diffuso per errore dalla Lega con uno stop a Kiev che poi è saltato, Mule di Forza Italia attacca Salvini. Parla come vannacci, il leader 5 Stelle, Conte intima al PD. La ricerca della pace è condizione dell'intesa politica. Da parte sua Renzi chiede a Conte di scegliere tra Trump e Harris. La Commissione europea intanto smentisce l'esistenza di un accordo segreto Meloni-Fonderlein che secondo indiscrizione avrebbe previsto una vicepresidenza esecutiva per l'Italia, anche senza i voti ETR. Emergono particolari shock sull'assassinio di Sharon Verzeni, il reo confesso, Moussa Sangare ha raccontato, mentre la coltellavo mi chiedeva perché, in servizio di Antonella Mazza. Teruel. È fissato per lunedì prossimo alle 9 nel carcere di Bergamo l'interrogatorio del 31enne arrestato per l'assassinio di Sharon Verzeni, a Terno d'Isola. Moussa Sangare è accusato di omicidio con l'aggravante della premeditazione e dei futili motivi. Intanto trapperanno passaggi delle dichiarazioni messe a verbale dall'uomo disoccupato, denunciato tempo fa per maltrattamenti dalla madre e dalla sorella. Ha riferito di aver visto tra il 29 e il 30 luglio scorso per strada una ragazza con le cuffiette che guardava le stelle nel cielo, di averla avvicinata da dietro, di averle messo una mano sulla spalla, di averle detto scusa per quello che stava per succedere, di averla colpito al cuore per ucciderla, di non essere riuscito ma di aver continuato a colpire, mentre Sharon chiedeva per tre volte perché. La procura ha chiesto al GIP la convalida del fermo di Sangare individuato e arrestato esattamente 30 giorni dopo l'omicidio della donna che avrebbe dovuto sposarsi il prossimo anno con il fidanzato Sergio Ruocco, difeso dai genitori di Sharon ma sul quale hanno insistentemente speculato per un mese stampa e tv. E oggi a parlare l'avvocato della famiglia Verzeni Luigi Scudieri che ha respinto l'idea del raptus improvviso e scatto d'ira di Sangare uscito di casa la notte dell'omicidio con quattro coltelli. Strade insanguinate nel controesodo di fine agosto, in provincia di Latina una mamma 24enne morta nel ribaltamento di una vettura guidata dal compagno, risultato positivo ad alcol e droga. Ma ci sono stati anche altri incidenti mortali. Sentiamo Fausto Nicastro. Giornata tragica sulle strade italiane con sette vittime. Una giovane madre di 24 anni è morta nella notte in un incidente stradale a Fondi in provincia di Latina. Secondo le prime ricostruzioni l'auto sulla quale viaggiava sarebbe uscita fuori strada forse a causa dell'alta velocità. A bordo anche il figlio di sei mesi ferito gravemente e trasportati nell'isoccorso all'ospedale Bambino Gesù di Roma. Alla guida invece c'era il compagno 22enne della vittima condotti in ospedale dove è stato trovato positiva i test di alcol e droga e posto agli arresti domiciliari. Ferita anche la sorella del conducente. Un'altra donna è morta invece sull'autostrada del Sole all'altezza di Valmontone alle porte della capitale. Lo scontro tra quattro veicoli ha causato anche il ferimento di tre persone a una coda di 9 km. Il tratto in direzione Roma è stato chiuso al traffico per qualche ora per permettere i soccorsi. È un maxitamponamento sulla 23 tra gemone e carni in direzione del confine con l'Austria. Ha visto coinvolte almeno 7 veicoli causando 20 feriti di cui 3 gravi. Sempre in Friuli Venezia Giulia Udine è una persona morta dopo essere uscita fuori strada lungo la tangenziale ovest della città mentre un ragazzo di 22 anni è deceduto in provincia di Ferrara con una dinamica simile. Altri gravi incidenti si sono verificati anche nel sud Italia. Due veicoli si sono scontrati sulla strada statale 106 Ionica causando una vittima all'altezza di Massafra in provincia di Taranto. Infine due motociclisti hanno perso la vita. Uno tra Napoli Pozzuoli e l'altro nei pressi di Gallipoli. Ancora incendi nella capitale, fiamme di nuovo nella zona di Ponte Galeria. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le strutture che si trovano ad alcune centinaia di metri dal rogo. E sembrava domato l'incendio divampato ieri sera a Marciliana Settebagni ma oggi pomeriggio ha ripreso corpo un focolaio che ha raggiunto di nuovo il ciglio dell'autostrada. C'è molta energia sporca nel pianeta per le troppe fonti fossili ma anche per le ingiustizie, le guerre, i ritmi di lavoro insostenibili. Così Papa Francesco incontrando dirigenti e dipendenti dell'azienda Terna. Ce ne parla cristiana caricato. Il grido della terra preoccupa Francesco. Il pontefice delle encicliche verdi torna a pungolare sulla necessità di prendersi cura di un pianeta sempre più caldo e malato. Occasione l'incontro in Vaticano con i dirigenti e i dipendenti di Terna, azienda di distribuzione energetica a cui il Papa ha raccomandato di lavorare per un futuro alimentato da energia pulita, denunciando l'energia sporca, risultato dell'utilizzo indiscriminato di fonti fossili e non rinnovabili o sporcata da guerre, concentrazione di enormi profitti nelle mani di pochi e ritmi di lavoro insostenibili, elementi che inquinano le relazioni e l'anima delle persone. L'energia buona non è soltanto una questione tecnologica, bisogna che la produzione e il consumo diventino sempre più equi e inclusivi. Francesco ha richiamato anche il tema della sicurezza sul lavoro, ricordando le vittime di un sistema di produzione poco attento ai diritti dei lavoratori. Non dimentichiamo i caduti sul lavoro nelle infrastrutture energetiche e facciamo in modo che non ce ne siano più. Inclusione energetica tra gli obiettivi segnalati dal pontefice in un settore decisivo per la qualità della vita e la sopravvivenza del pianeta. Un richiamo alla responsabilità, soprattutto in un momento in cui l'approvvigionamento di risorse può scatenare conflitti. L'invito all'arte della pace è anche nelle parole rivolte dal Papa più tardi al capitolo generale dei frati Cappuccini. Promuovere la fraternità all'incontro partendo dagli ultimi l'esortazione di Francesco. Al centro non si mettano mai le risorse economiche, i calcoli umani o altre realtà di questo tipo. Al centro ci siano le persone. Il consiglio finale è quello di essere frati del popolo, vicini ai poveri e agli ultimi generosi nella misericordia dentro il confessionale. Voi dovete essere così, uomini di amore, di perdono e di riconciliazione. Concedere la cittadinanza italiana ai bambini che seguono il corso di studi con i nostri ragazzi, il cosiddetto Youth School, costituisce uno strumento importante di inclusione delle persone ed è un tema di cultura. Lo sostiene il Cardinale Zuppi, presidente della CEI, in un'intervista ad avvenire che sarà pubblicata domani. L'Arcivescovo di Bologna tocca anche il tema dell'autonomia differenziata, ricordando che i Vescovi sono preoccupati che possa venire meno il vincolo di solidarietà tra le diverse regioni e auspicando invece un patto sociale e culturale. Cambiamo pagina. Si possono migliorare le funzioni del cervello anziano con uno spray nasale? Uno studio italiano dice di sì. Certo, siamo ancora agli inizi, ma la strada sembra davvero promettente, come ci racconta Monica Di Loreto. Nel prossimo futuro basterà uno spray nasale per ingiovanire il nostro cervello. Lo studio, pubblicato sull'importante rivista internazionale Brain, è stato realizzato nelle Marche da ricercatrici e ricercatori del Centro di Neurobiologia dell'Invecchiamento dell'IRCS, INRCA e del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell'Università Politecnica delle Marche. Al centro di questa scoperta c'è la microglia, un tipo di cellula che svolge un ruolo cruciale nella protezione immunitaria del cervello. I ricercatori hanno scoperto che queste cellule possono fare molto di più che proteggere, possono effettivamente ridurre gli effetti dell'invecchiamento cerebrale. Gli scienziati hanno utilizzato vescicole extracellulari prodotte da microglia coltivate in laboratorio. Queste vescicole sono state programmate per avere un profilo antinfiammatorio e poi somministrate attraverso uno spray nasale a topi adulti. I risultati sono stati sorprendenti. Nel cervello dei topi si è osservata una riduzione dell'infiammazione cerebrale, un miglioramento dell'apprendimento spaziale e una riduzione dell'ansia. Anche se i risultati sono estremamente promettenti, è importante ricordare che siamo nelle fasi iniziali. La ricerca è stata condotta su modelli animali e ci vorrà del tempo prima di poter parlare di applicazioni umane. I ricercatori però stanno già guardando al futuro, pianificando ulteriori studi per esplorare le potenziali applicazioni di questa tecnologia. Se i risultati continueranno ad essere positivi, ci sarà una svolta nel trattamento dell'invecchiamento cerebrale e delle malattie neurodegenerative. La nave si è inclinata e siamo stati sbalzati in acqua, poi siamo riusciti a risalire e abbiamo cercato di salvare quelli che potevamo. Sono le parole di Matthew Griffiths, il marinaio che la notte della bufera era di guardia in plancia a bordo del Bayesian, il veliero che è colato a picco nel Palermitano. C'è stato un incidente mortale sul lavoro. Questa mattina a Bisceglie, nel nord barese, un uomo di 58 anni ha perso la vita, folgorato mentre stava potando un albero. Secondo i primi rilievi, la vittima si trovava all'interno di un cestello elevatore che avrebbe toccato i cavi elettrici senza dargli scampo. La procura di Trani ha aperto un'inchiesta. Parliamo ora del caldo, ma sotto un altro aspetto. Le alte temperature hanno fatto maturare più in fretta le uve. E così la vendemia viene anticipata, come accade in Croazia. Ci racconta tutto Letizia Davoli. Un'uva eccezionale che darà ottimi vini. È l'altra faccia del caldo e della siccità di questa lunga estate che ha prodotto notevoli danni a molti raccolti, ma non ai vitigni, come succede in Croazia, dove la necessità di una vendemia anticipata a metà agosto invece che ai primi di settembre non crea alcuna preoccupazione ai viticoltori. Siamo in anticipo nella raccolta, ma abbiamo uve di altissima qualità. Dice infatti l'enologo della cantina, gli zuccheri sono oltre il 24%, una percentuale molto rara che darà ottimi vini. Ma uve di questa qualità, spiegano gli esperti, vanno raccolte di notte quando le temperature sono più basse e non c'è il rischio che i grappoli fermentino o si ossidino a causa del caldo. Così si lavora tra i filari dalle prime ore di buio fino all'alba in attesa di vedere i risultati del proprio lavoro. Con la testa però già ai prossimi mesi e si pensa a come proteggere il raccolto futuro. Qualunque sia la causa di queste temperature, dice il proprietario della vigna, dobbiamo prepararci subito con nuovi sistemi di irrigazione e analisi del terreno per non perdere tutto in caso di situazioni estreme ed avere sempre il miglior raccolto possibile. Ma se il caldo è amico del vino, non lo è dei raccolti di mais. La siccità in Serbia ha fatto crollare i numeri del 30% da 12 a 7 tonnellate, una situazione che peserà molto sulla bilancia economica del paese e che richiederà strategie immediate per proteggere le coltivazioni. Il governo del Nicaragua sotto la presidenza dell'ex leader sandinista Daniel Ortega prosegue nella stretta contro le libertà della società civile, in particolare della Chiesa Cattolica. Cancellato lo status giuridico di altre 168 organizzazioni non governative accusate, come di consueto, di non aver presentato i bilanci. Tra le realtà chiuse spicca lo NG Save the Children, ma nell'elenco figurano numerose istituzioni religiose. In Brasile la Corte Suprema ha sospeso la piattaforma X su tutto il territorio nazionale con effetto immediato. La decisione chiude un contenzioso giudiziario che si trascinava da tempo dopo la richiesta disattesa da Elon Musk di nominare un rappresentante legale nel paese sudamericano. La libertà di parole è il fondamento della democrazia, ma in Brasile, ha commentato Musk sul proprio account, uno pseudo giudice non eletto la sta distruggendo per motivi politici. Alla mostra del cinema di Venezia, primo film italiano in concorso, si intitola Campo di battaglia ed è diretto da Gianni Amelio. Ce ne parla Marino Galdiero. Umiliati dalla politica. Un film contro la sua fazione alla guerra, lo definisce Gianni Amelio, che a Venezia è in concorso con Campo di battaglia, prima opera italiana presentata alla mostra. L'autore del ladro di Bambini si pone un interrogativo. È giusto che un medico mutili il braccio di un soldato, rendendolo storpio, per farlo rispedire a casa ed evitare così il conflitto? La risposta a Meglia non ce l'ha, ma pone un problema morale. Un racconto come Campo di battaglia non è solamente un racconto che riguarda la prima guerra mondiale, ma è un racconto che riguarda tutte le guerre. La storia è ispirata al romanzo La sfida di Carlo Patriarca, siamo sul finire della prima guerra mondiale. Due medici, amici di infanzia, Alessandro Borghi e Gabriel Montesi, lavorano nello stesso ospedale militare, dove ogni giorno arrivano i feriti più gravi. Questa idea di costruire un film, secondo me, molto preciso, molto rigoroso nei personaggi, che mettesse sul tavolo tutta una serie di tematiche che avevano a che fare con la guerra, ma che avevano una grande necessità di andare oltre, cioè di andare ad indagare quello che è l'ideale di giusto e di sbagliato dell'animo umano. I due medici ben presto si accorgono che molti militari si sono procurati da soli le ferite per non tornare a combattere. La situazione provocherà reazioni differenti tra loro. Da una parte il dovere di combattere, dall'altra la possibilità di salvarsi la vita e la guerra con le sue contraddizioni. Oggi a Lido è anche il giorno del premio Robert Bressona a Marco Bellocchio, assegnato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo e dalla rivista del Cinematografo, con il patrocinio dei Ticasteri Vaticani della Cultura e della Comunicazione. Marco sa indagare nel suo cinema le profondità dell'animo umano, le profondità delle pieghe più oscure della nostra storia. Per il cardinac José Tolentino de Mendoza, Bellocchio penetra con profondità le questioni sociali, politiche e morali, mettendo in risalto la libertà delle scelte umane tra le macchinazioni della storia. E siamo giunti al termine del TG2000. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Vi segnalo, dopo la sigla Soul, e a seguire il film sportivo romantico Bobby Jones, Genio del Golf. A tutti voi l'augurio di trascorrere le prossime ore in serenità e poi una lieta domenica. Arrivederci.